La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, buon sabato e bentrovati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa qui su Notv. Sfogliamo insieme le pagine dei principali quotidiani in Edicola questa mattina. Partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, andiamo subito a vedere cosa troviamo in apertura. Leggiamo il titolo. Nessun governo tecnico, meloni alla sinistra, lo spread preoccupa solo chi vuole che cadiamo, il paese è solido. Migranti, il patto di Malta con UE e Francia, non si fa solidarietà con i confini degli altri. E poi da Pestum, Berlusconi dei Tajani, avanti con le sue idee, una lettera dei figli del Cavaliere, noi al fianco di Forza Italia. Ci spostiamo al centro della pagina. Per la fotonotizia, Campi Flegrei, faremo presto l'esercitazione. De Luca, limitata a poche centinaia di persone per verificare il piano di evacuazione. Ci spostiamo di taglio laterale. Punto di Vespa. Quella pesca che ha acceso i social. La riflessione. Femminicidi. Il monito da rilanciare. Ancora per quanto riguarda l'analisi, la difficoltà di coniugare le regole UE con le riforme. Ci spostiamo adesso di taglio basso e c'è lo sport. Osi diventa un caso di Stato e oggi la sorpresa Lecce. Ministro nigeriano chiede spiegazioni sul video. E poi la salernitana. Alla Rechi c'è l'Inter Sosa in campo come una famiglia. E lasciamo la prima pagina del mattino nazionale. Continuiamo a restare su questo giornale e andiamo a vedere cosa troviamo sulle pagine dedicate al primo piano. Qui l'argomento è il vertice di Malta. Vediamo il titolo. Migranti, von der Leyen e Macron con l'Italia. Altolà alla Germania. Gestione degli sbarchi. Meloni all'appoggio di Parigi e Bruxelles. La risposta a Berlino. Ogni paese accolga chi è salvato dalle sue navi. E ancora, vediamo. Il premier italiano, l'emendamento tedesco sulle ONG per noi è un passo indietro. Ci siamo presi del tempo. Il trafiletto accanto alla foto con hanno detto. Insieme alla Commissione europea abbiamo trovato un approccio comune al problema. Queste le parole di Emmanuel Macron. Non bisogna lasciare sola Roma cooperare su entrambe le sponde del Mediterraneo. Le parole di Ursula von der Leyen. E ancora. Se si può fare una missione navale per far rispettare le frontiere è un'ipotesi che va valutata. Queste invece le parole di Roberta Mezzola. Di taglio basso per lo scenario. Non si può fare solidarietà con i confini degli altri. Il segnale verso le europee. E ancora, messaggio a Scholz in vista delle prossime elezioni. La leader di Fratelli d'Italia può essere l'ago della bilancia della maggioranza Ursula. E poi la vicinanza con il presidente francese è sempre più evidente dopo l'incontro ai funerali di Napolitano. E ancora lasciamo questa pagina ma continuiamo a restare sul mattino nazionale sulle pagine dedicate al primo piano. Quindi proseguiamo con l'argomento che abbiamo trattato finora e vediamo la pagina dedicata agli scenari politici. Quei legami ONG verdi che condizionano Scholz. SPD in crisi dopo che la Corte ha annullato la legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Gli alleati del cancelliere sono tra quelli che ricevono più fondi dalle associazioni. E poi abbiamo Weber del PPE. Si schiera con Roma sul patto per i migranti. Peserà la campagna per le elezioni del giugno prossimo. Troviamo ancora più in basso il sospetto italiano. Dietro la difesa del ruolo delle organizzazioni ci sono anche interessi economici. Al centro della pagina c'è il grafico con le navi delle ONG nel Mediterraneo. E ci sono i paesi Germania, Norvegia, Spagna e Regno Unito. Ci spostiamo di taglio basso. Un breve articolo che cita Elon Musk. E sulle navi delle ONLUS anche Musk attacca Berlino. Scontro social tra il fondatore di Tesla e il governo tedesco. E lasciamo anche questa pagina. Ma siamo sempre sul mattino nazionale e sempre sulle pagine dedicate al primo piano. Andiamo a vedere cosa troviamo nella pagina successiva a quella che abbiamo appena visto. Qui l'argomento è i conti pubblici. Vediamo invece il titolo. Meloni blinda il governo. I soliti noti vorrebbero che tornassero i tecnici. Il premier, gli investitori hanno letto i nostri numeri e ora lo spread scende. Nella Nadef la previsione di un calo graduale del debito pubblico fino al 2026. Andiamo a vedere più in basso. Leggiamo il differenziale con il Bund tedesco. resta al di sotto di quota 200, deficit PIL sotto il 3% fra tre anni. Al centro il grafico con l'andamento dell'inflazione e il livello dei prezzi in Europa e in Italia. E al centro c'è anche questo trafiletto con il rapporto ogni italiano spreca cibo per 146 kg all'anno. Ci spostiamo di taglio basso dove abbiamo i numeri. Inflazione e carospesa è in frenata. I mercati adesso sperano nella BCE. A settembre l'indice dei prezzi rallenta nel nostro paese grazie soprattutto agli alimentari. e lasciamo anche questa pagina. Continuiamo a restare sul mattino nazionale. Adesso torniamo sugli argomenti che riguardano l'economia. E al centro della pagina abbiamo la notizia principale. Andiamo a vedere i nodi dell'economia. Dunque il confronto sud pochi sportelli bancari. Lo Stato favorisce Banco Posta. Patuelli dell'ABI al confronto della CGL. Negli ultimi anni concorrenza alterata. Landini risparmi per creare lavoro. Serve un'agenzia per lo sviluppo. Il presidente dell'associazione bancaria. Nel meridione tante potenzialità. Non solo criticità. Ci spostiamo di taglio alto. Andiamo a vedere da Confindustria Campania. Niente intesa. Vigorito alla guida per anzianità. Quindi la scelta. La designazione sarebbe spettata alla sede di Salerno con Ferraioli. Ma alla fine l'accordo è saltato. Il presidente uscente traettino applica il regolamento e invita le province a una nomina concordata. Ci spostiamo adesso di taglio basso. Per il giudizio visco. Napoli è migliorata ma mezzogiorno arretrato. Il governatore di Banca Italia al maschio angioino nei territori deboli è maggiore il peso della crisi. Questo ha detto. E lasciamo questa pagina. E con essa anche il mattino nazionale. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. In apertura si parla di sanità. Leggiamo il titolo. Case di comunità all'ora dei tagli. A rischio 22 strutture su 33. Dovevano servire a decongestionare gli ospedali. Quindi la sanità è il caso. Il governo rivede i piani per i rincari nell'edilizia. Salvi nel Salernitano solo 11 centri. L'intervista ad Angelo dei Medici. Senza personale saranno cattedrali nel deserto. È di taglio laterale la convention con il Berlusconi Day. Forza Italia. Aria nuova pure a Salerno. Ci spostiamo al centro della pagina. Per la fotonotizia lo sport. Granata. Notte da impresa. Noi come una famiglia. La Salernitana sfida l'Inter con D.A. titolare. Per la sicurezza. L'allarme. Leggiamo. Vigili urbani ridotti all'osso. A rischio i turni in strada. Anzianità e malattie. Un agente su tre lavora solo in ufficio. Le violenze in carcere. Detenuto psichiatrico. Aggredisce otto agenti. Fuorni una polveriera. Ci spostiamo di taglio laterale. L'evento di Natale. Lucida artista. Sul corso. Ecco le prime installazioni. Per la politica PD. Voto in vista per la ripartenza. Arrivano due vice commissari. Andiamo a vedere di taglio basso. I due consueti box. L'incidente a Cava dei Tirreni. Mucchevaganti. Finisce fuoristrada con l'auto. E poi il consigliere di battipaglia. Tony Soft per l'assassino. Clemente lascia le deleghe. E proseguiamo. Lasciamo la prima pagina del mattino di Salerno. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano. Le cronache di Salerno. Andiamo a vedere. In apertura con foto notizia. Troviamo il Berlusconi Day. Meno male che Silvio c'è. Martusciello. Un successo senza precedenti. Dalla famiglia nessun video. Messaggio ma una lettera. Applausi a Giannini. Che ha letto il discorso del Cavaliere. Le parole di Tajani. E il pugno duro contro i morosi. Di taglio laterale. Il fatto Confindustria. Oreste vigorito nuovo presidente. E gli auguri del governatore De Luca. Ancora sul Berlusconi Day. Spunta anche Lotito. Non sarò all'Arechi. Per la gara contro la Salernitana. Ci spostiamo al centro della pagina. Il convegno del 2 ottobre a Salerno. D'Alessio. Azione oggi è punto di riferimento per tutti i riformisti e i liberali. Continueremo a dialogare con tutti per un centro plurale. Ancora al centro della pagina anche lo sport. Pienone Arechi contro la Capolista. Salernitana senza Candreva. Inter senza Frattesi. Per i Granata. E già ultima spiaggia. Da Ponte Cagnano. Nomine ad Interim a prezzi lievitati. Il consigliere Silvestri presenta Esposto. Ancora di taglio basso. Il compagno di mia sorella tentò di ucciderci. Salve per miracolo. Pagani. La storia di Maria e Brigida abbandonate dalle istituzioni. E poi per quanto riguarda la storia. Residuati bellici, pericolosi. Ieri, oggi e domani. La ricostruzione. Questi titoli che troviamo sulla prima pagina del quotidiano. Le cronache di Salerno che lasciamo. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. E ci ritroviamo tra poco. Bentornati in studio. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. E torniamo sulle pagine del mattino di Salerno. Andiamo a vedere subito la pagina dedicata alla sanità. L'emergenza. Questo è l'argomento. Vediamo il titolo. Calla la scura e dei tagli sulle case di comunità. 22 su 33 sono a rischio. Il governo rivede i piani dei fondi PNRR. Colpa dei costi aumentati nell'edilizia. Dovevano servire a decongestionare ospedali e pronto soccorso in affanno. E ancora priorità agli immobili da ristrutturare e non costruire ex novo nel Salernitano solo 11 centri per l'assistenza. Andiamo a vedere anche l'articolo. A rischio 22 delle 33 case di comunità previste nel Salernitano e da realizzare entro giugno 2026 con i fondi dell'Unione Europea. Stando alla proposta di revisione del piano nazionale di riprese e resilienza che vede una riduzione del numero delle strutture, in campagna potrebbero diventare 55 a fronte delle 172 programmate. A causa dell'aumento dei costi dell'edilizia si dovrebbe dare priorità agli investimenti di ristrutturazione degli edifici esistenti 11 in provincia che impatterebbero in misura minore sul cronoprogramma dei lavori. Le strutture che uscirebbero fuori dai finanziamenti della PNRR dovrebbero essere poi realizzate attingendo a quelli destinati all'edilizia sanitaria. Al centro abbiamo il lutto addio a Benito Siano, occhio storico della città. Mentre di taglio basso, sempre sull'argomento sanità, c'è l'intervista a Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, che dice Mancano medici e infermieri senza rinforzi, quelle strutture saranno cattedrali nel deserto. Il leader dell'Ordine ci confrontiamo con i politici perché serve un cambio di passo nella rete sul territorio. E lasciamo questa pagina, ma continuiamo a restare sulle pagine del mattino di Salerno. Andiamo a vedere adesso la pagina dedicata alla sicurezza, l'allarme. Il titolo Vigili urbani al lumicino tra malattie e anzianità, turni in strada a rischio. Quest'anno in pensione 18 agenti e uno su tre può lavorare solo in ufficio. I sindacati organico da ringiovanire con lo sblocco immediato dei concorsi. Rispoli del CSA dice Arrivati tre nuovi rinforzi, ma è come un cerotto sull'emorragia. Il comune promette 45 uomini part-time. Andiamo a vedere l'articolo. La coperta è corta, cortissima. Essi fanno i salti mortali di sera per coprire la città e i quartieri periferici. Si fa fatica da un mese anche a intervenire sulle piccole criticità di quartiere, come l'occupazione dei passi carrabili. In quattro mesi il corpo di polizia municipale agli ordini del comandante Rosario Battipaglia ha visto uscire dal comando per pensionamento ben sette agenti. Stamane andrà in pensione l'ottavo agente, uno storico motociclista di Piazza Vittorio Veneto molto stimato dai suoi colleghi. Ma non finisce qui. Il picco di malattie per anzianità e servizio ha raggiunto livelli record nel corpo dei caschi bianchi. L'anzianità degli agenti è tra le più alte d'Italia e con un quadro così precario le strade restano con pochi uomini in divisa. Tra filetto al centro sui rifiuti leggiamo Ecoambiente bene ai servizi durante l'alt ad Acerra. Mentre di taglio basso si parla dell'evento di Natale. Le luci d'artista in anticipo, via alle prime installazioni, lungo corso Garibaldi. Tra i pali della luce fanno capolino i rami innevati, già visti negli anni passati. Per le novità bisogna aspettare. E proseguiamo, lasciamo questa pagina. Continuiamo a restare sulle pagine del mattino di Salerno perché andiamo a leggere adesso le notizie che troviamo sulla pagina dedicata al territorio a sud del capoluogo. Quindi Piana del Sele, Picentini, Cilento e Vallo di Diano. In apertura siamo a battipaglia. Tony soft per i killer. Clemente rimette le deleghe ad Alfieri. Il consigliere era finito nel mirino per le frasi sul marito assassino di Maria Rosa. Il presidente della provincia dimostra sensibilità. Questa mattina per il profondo rispetto che ho sempre avuto nei riguardi delle istituzioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale ho rimesso spontaneamente le deleghe all'agricoltura e alle politiche del lavoro nelle mani dello stesso presidente Franco Alfieri che ringrazio per la fiducia in me riposta in questi due anni di consigliatura e per il rispetto personale politico che anche in questa triste vicenda mi ha dimostrato. Il consigliere di battipaglia Vincenzo Clemente finito nella bufera per alcune frasi proferite in occasione della fiaccolata di commemorazione per Maria Rosa Troisi ammazzata dal marito Marco Aiello resta in carica da consigliere ma decide di rimettere le deleghe avute in provincia. Ancora una volta spiega ribadisco la mia ferma condanna contro ogni forma di violenza perpetrata in danno delle donne e ritengo che gli attacchi ricevuti nei giorni scorsi siano solo strumentali così dice tra le altre cose. Da battipaglia Ordigno da disinnescare operazioni al via di taglio basso invece siamo a Capaccio Pestum di taglio laterale scusate tenta il furto di una vettura e rischia il linciaggio tenta di appropriarsi di un'auto in sosta per un cittadino cazzaco catturato scattano le manette l'episodio è accaduto due giorni fa nel comune di Capaccio Pestum l'uomo stava cercando di mettere a segno il colpo a pochi passi dai templi quando è stato scoperto e fermato dalle forze dell'ordine. Al centro della pagina ancora la cronaca da Sala Consilina rissa durante la festa patronale e accoltellato un 19enne rissa con accoltellamento durante la festa patronale e quanto accaduto nella notte tra giovedì e ieri a Sala Consilina almeno quattro le persone finite nei guai per ora nella centralissima piazza Umberto I durante la vigilia dell'evento più sentito del comune più popoloso del Ballo di Diano almeno cinque persone hanno partecipato a una rissa è un giovane rimasto ferito lievemente con colpi di arma da taglio sul caso indagano dalle tre di notte i carabinieri della stazione di Sala Consilina guidati dal maresciallo Giacomo Mezzo Ancora di taglio laterale da Eboli Creative Hub nell'ex C2O battaglia per l'ipoteca ci spostiamo di taglio basso da Ponte Cagnano due rapine nella stessa tabaccheria incastrato dai video caccia al complice da Corletto Monforte ferito mentre è in auto un incidente di caccia ferito con un'arma da fuoco ad un braccio è accaduto ieri mattina a Corletto Monforte in un'area di montagna fuori dal paese dove un finanziere in pensione è stato raggiunto da alcuni colpi mentre era nella sua auto e proseguiamo lasciamo questa pagina connessa anche il mattino di Salerno adesso ci spostiamo sul quotidiano le cronache di Salerno anche qui andiamo a vedere la pagina che è dedicata alle notizie che arrivano dal Cilento al centro c'è la notizia principale la cronaca con una lite a canna longa lite tra stranieri spunta anche un coltello pare che i due abbiano litigato per un tentativo di abuso sessuale ai danni di una donna anche lei straniera per un 43enne ucraino necessario un intervento a causa della ferita e ancora da chiarire a fondo le dinamiche dell'accaduto e le motivazioni poteva essere l'ennesima tragedia due uomini di nazionalità straniera un 43enne ucraino e un 40enne bulgaro hanno litigato e dalla colluttazione derivante sono usciti entrambi i feriti il primo anche gravemente perché colpito al volto da un'arma da taglio il diverbio poi esploso nella violenza sarebbe nato perché il 40enne avrebbe tentato di approfittare della compagna dell'altro la situazione in pochi minuti sarebbe degenerata dalle parole i due sono passati ai fatti il 43enne avrebbe tirato fuori un coltello ferendo al collo il presunto aggressore della compagna quest'ultimo non sarebbe stato da meno tant'è che avrebbe reagito picchiando l'altro il fatto è avvenuto come dicevamo nel piccolo paese di Canna Longa dove numerosa è la comunità di cittadini stranieri che spesso litigano tra di loro oppure causano fastidio agli abitanti andiamo di taglio alto ancora la cronaca incidente spazzatrice contro abitazione ferito un operaio adesso ricoverato a Polla luogo dell'accaduto il centro storico di Polla dove l'uomo stava lavorando quando ha perso il controllo del mezzo quindi stava lavorando nel centro storico del comune di Polla quando per cause da accertare un operaio ha perso il controllo della spazzatrice che stava guidando e il mezzo è andato ad impattare contro un'abitazione l'uomo ha subito lievi ferite ci spostiamo di taglio basso anche qui c'è la notizia che arriva da Corleto Monforte spari mentre è in auto cinquantenne ferito gravemente si indaga per scoprire cosa sia davvero accaduto quindi nella mattinata di ieri un uomo a Corleto Monforte è stato raggiunto da dei colpi di arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto protagonista del fatto un uomo di 50 anni del posto che stava percorrendo una strada di campagna quando è stato colpito da colpi di un fucile lo sparatore ovviamente è ignoto almeno al momento ma comunque si indaga proseguiamo lasciamo questa pagina ma continuiamo a restare sul quotidiano le cronache di Salerno adesso andiamo a vedere questa notizia che arriva da Battipaglia leggiamo subito il titolo scuole fiorentino e cittadini sono diventate discarica a cielo aperto quindi siamo a Battipaglia alla protesta dei residenti nel quartiere Sant'Anna che lamentano sporcizia abbandono cattivi odori e polvere i consiglieri Provenza e Mir raccolgono le voci di chi abita in zona e ancora i battipagliesi noi abbandonati e anche se viviamo nel centro cittadino c'è tanta sporcizia nel cantiere è una situazione diventata ingestibile qui siamo continuamente alle prese con sporcizia e grandi quantità di polvere è così riassumibile il grido di allarme dei residenti del quartiere Sant'Anna dove da diversi mesi è aperto il cantiere per l'abbattimento e la ricostruzione delle scuole fiorentino quel cantiere è diventato una discarica a cielo aperto continuano i battipagliesi è chiaro come siano stati gettati lì rifiuti di ogni genere oltre ai materiali di risulta dell'abbattimento perché nessuno pulisce si chiedono perché rimane tutto lì senza che nessuno faccia qualcosa questa è la denuncia dei cittadini di battipaglia e lasciamo questa pagina ed è tutto per l'appuntamento di oggi con la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito vi invito a continuare a restare con noi augurandovi un'ottima giornata grazie a tutti grazie a tutti